Ci troviamo con Pietro Pillar Cotra in Piemonte, provincia di Torino, al Sester, quindi insomma zone per lui piuttosto care, ma prima cosa volevo chiedere, insomma qui in raduno con la squadra del centro sportivo Carabinieri, quindi come sta procedendo questo raduno? Ma direi veramente bene, sapevamo delle qualità che ci poteva offrire questo posto al Sester, soprattutto ai 2000 metri, però dopo aver esserci stati ormai da qualche giorno, riteniamo una volta di più di aver fatto una scelta veramente ottima, perché i percorsi sia per quanto riguarda Schirol, bici, corsa o camminata ci offrono una possibilità infinita di scelta. Allora adesso però mi devi dire un po' cosa provi quando sali da queste parti, c'è sempre un brivido particolare. Beh, inevitabile, ogni volta che torno questi sono dei luoghi estremamente speciali, in questi giorni poi abbiamo avuto la possibilità di vedere altri posti al di fuori di ovviamente la tanto amata Pragelato, ovviamente Sester, ma quasi in ogni posto c'è un bracere che ci ricorda, ovviamente si respira l'Olimpiade, in particolare non so Claviera, anche se era un sito di allenamento, piuttosto che Bardonecchia, Cesana e proprio non più tardi di questa mattina anche San Sicario. Mi hai raccontato che hai, diciamo, in qualche modo incontrato Bubu Valbusa. Sì, in effetti dopo aver parcheggiato ho visto questo cartellone gigante, lì per lì avevo fatto fatica a collegare lo sci di fondo con il biatron perché a San Sicario c'era il biatron, pensavo fosse Pier Alberto Carrara, poi ho guardato bene, faceva tecnica classica e quindi è stato con un enorme piacere, mi sono fatto fare una foto e ovviamente la prima persona a cui l'ho mandata è il grande amico Fulvio Valbusa. Ha già risposto? Sì, sì, no, in effetti subito ha risposto anche perché anche lui si è fatto grande meraviglia di vedere questa cosa qua perché ovviamente se uno non va a San Sicario per visitare quel posto difficilmente lo nota. Peraltro che qui siete ospiti di un altro medagliato olimpico, quindi avete qualcosa di cui parlare? Ma con Gianfranco Martín c'è un'amicizia che ci lega da tanto tempo, quindi la prima persona che ho contattato per venire qui è stata lui, poi la sua struttura è estremamente valida e poi dopo anche la sua grande attenzione per il mondo della disabilità gli fa veramente onore e noi ci troviamo veramente molto bene. Tornando al gruppo, agli atleti che stai allenando insieme a Tullio Grandelis, volevo chiederti se ogni tanto magari dai anche qualche consiglio, magari in ottica olimpica, visto che comunque l'obiettivo per molti di loro è quello. Ma in effetti anche questo raduno qui che noi facciamo a 2000 metri è frutto dell'esperienza che avevo passato io proprio prima di Torino 2006 e quindi cerchiamo di avvicinare i ragazzi tutti a prescindere verso l'Olimpiade che si svolgerà a febbraio tra pochi mesi e quindi l'alternanza di raduni in quota per noi in questa stagione risultava particolarmente importante. Per cui questo come tantissimi altri, ovviamente quelli più grandicelli sono più delle spugne per quanto riguarda i consigli, ai più giovani magari serve dirla una, due, tre volte in più però fin tanto che posso cerco sempre di dare loro informazioni utili.